I turbinati sono l'organo termoregolatore della cavità nasale insieme a parte della mucosa della cavità nasale stessa. Se il setto può essere paragonato ad un muro che divide la cavità nasale nelle due fosse nasali, destra e sinistra, ecco che i turbinati possono essere paragonati a delle mensole che fuoriescono dalla parete laterale della cavità nasale. I turbinati sono costituiti in parte da osso ma soprattutto da un tessuto cavernoso che è capace di allargarsi o di restringersi a secondo dell'arrivo del sangue o del defluire del sangue. I turbinati allargandosi determinano un'ostruzione della cavità nasale e quindi impediscono all'aria di passare e di ossigenare bene i polmoni. Quando questo avviene ecco che i turbinati devono essere operati.